In questo periodo estivo, una nota negativa, sono sicuramente i cumuli di rifiuti che si possono trovare in ogni dove, complice la maggiore presenza di persone nei comuni cilentani. A San Giovanni Appiro preoccupano i rifiuti accumulati nella zona della Pietra del Diavolo. Come segnalato alla nostra redazione, ai bordi della via comunale, che dalla località Angar collega la SP18 con Bosco, a ridosso del torrente Pantana, sono presenti residui di carta catramata, mattonelle e altri oggetti che necessitano di essere rimossi per dare bellezza a un luogo dal quale è possibile ammirare il castello di Policastro Bussentino e uno scorcio del Golfo. Una zona collinare del comune cilentano, ricca di suggestioni e leggende, che purtroppo non di rado viene scelta dagli incivili come deposito di scarti e rifiuti di ogni genere che oltre ai danni provocati all'ambiente offendono la memoria di chi ama da sempre quei luoghi meritevoli di più attenzione.